Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Mi accingo per la terza volta a registrare questo video perché ultimamente ho dei problemi con la videocamera. Arrivo ad un certo punto e tutto il video rimane sfocato e non riesco a capire perché. Allora, ho fatto un po' di manutenzione sulla videocamera sperando che funzioni, con l'aiuto ovviamente del capitano perché io non capisco una cippa. Vediamo, speriamo di essere fortunati altrimenti non so come farò a registrare i video dal telefono non riesco, non sono capace, non riesco a vedere le inquadrature vabbè, insomma, vediamo. Speriamo di aver imparato bene a memoria quello che devo dire. Allora, video dei prodotti beauty finiti nel mese di febbraio sì, perché in questi dieci giorni non ho finito nulla. Adesso tendo a farlo appunto una volta al mese in modo che non mi si accumuli troppo materiale poi da buttare via. Allora, postilla. Qualcuno mi ha giustamente fatto notare che io faccio vedere anche delle cose che consuma Lucia ma perché magari anche Lucia non viene con me nel video perché a Lucia non interessa partecipare ai miei video non è social non ha nessun tipo di social se non Whatsapp per comunicare con il mondo intero e le basta rispetto a questa scelta anzi ne sono quasi affascinata perché io non riesco ad essere così però a lei sta bene così e io rispetto ovviamente le sue decisioni devo anche rifare la tinta va bene cominciamo allora, prodotti finiti ho finito questo shampoo alla banana per capelli più morbidi che avevo preso alla Lidl mi è piaciuto tantissimo lascia i capelli molto morbidi molto... anche più voluminosi l'ho trovato molto simile allo shampoo alla banana della Garnier devo dire che assomiglia tanto il profumo di banana è meraviglioso adesso ho la maschera in uso e il balsamo ma ci metto un po' di più a finirli comunque questo sicuramente lo ricomprerò perché mi piace tantissimo e poi la Lidl è arrivata a Lecco e quindi sicuramente anzi abbiamo qua il sacchettino voi sentite dei rumori buttiamo tutto nel sacchettino poi ho finito questi questi, questi, questi dischetti leva trucco della Cotoneve questi li avevo trovati in offerta al Tigotà mi piacciono sono belli corposi non si sfaldano morbidissimi e ho finito questi della Vilea sono leggermente più sottili ma buoni allo stesso modo devo dire però che sto usando quelli della Lidl cicciottosi e sono buonissimi addirittura riesco a struccarmi entrambi gli occhi con un solo dischetto perché se da una parte appunto strucco l'occhio dall'altra parte è completamente pulito non passa neanche lo struccante veramente fantastici quindi sicuramente adesso quando finirò le scorte comprerò quelli ho finito questo shampoo all'angelica lupolo e semi di miglio fortificante mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto questi li avevo comprati in offerta al Liperal buonissimi davvero molto molto buoni lasciano i capelli morbidi danno proprio un senso di pulito buoni 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 sicuramente da ricomprare poi Lucia ha finito questa maschera naturale maschera capelli sebo regolatrice scusatemi caffè verde e vetulla questa mi pare l'abbiamo comprata al MD le abbiamo forse comprate anche di altre tipologie allora quando faceva questa maschera i capelli erano molto molto leggeri lei ha tanti capelli riccioloni e teneva bene il ricciolo e il boccolo e sicuramente rimanevano più puliti buona 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 vediamo come l'interno se l'ha pulito bene perché non l'ho guardato ammazza vuota vuota quindi vuol dire che le è proprio piaciuta tanto poi tutti questi deodoranti vabbè questo Nivea Fresh Energy buono dura anche 48 ore anche se ci laviamo comunque ma io ogni volta che mi lavo e anche magari più volte al giorno visto la situazione della menopausa lascia un fresco profumo molto fresco molto molto arioso buonissimo veramente questi qua della Nivea sono proprio buoni buoni c'è una strisciata di qualcosa ah della maschera al mirtillo buoni 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 come ho trovato molto buoni anche questi che ho trovato da Action Silk Touch e Sensitive erano costati 1 euro e 11 e devo dire che fanno il loro dovere molto molto buoni poi così vediamo perché andiamo a smaltire tutto mamma mia io spero davvero che non vada fuori fuoco così non mi sembra ho finito questa lacca della Nia Raiu Your Look lacca tenuta extra forte questa mi pare che sia la marca che c'è all'Eurospin a me non è piaciuta non è una tenuta extra forte io la lacca me la do alla mattina sui capelli per cercare di tenere un po' di volume perché i miei sono comunque molto sottili molto fini non mi è piaciuta ne uso invece una della testa nera in questo momento che non è tra l'altro neanche tenuta extra forte ma mi tiene molto di più di questa e quindi mi è piaciuta poi sempre Lucia ha finito questa maschera che avevamo comprato da Sephora a lei è piaciuta io ce l'ho ancora in uso perché non riesco a capire è vero che io uso molti più maschere di lei perché uso sia quelle in tessuto che quelle nei barattoli o in crema ma la mia è arrivata neanche a metà lei l'ha finita tutta questa è alla vitamina maschera viso e corpo però lei l'ha usata soltanto sul viso io ho quella la vitamina C che non finisce più poi questo ragazzi DAV esfoliante per il corpo con i semi di melograno e il burro di sci che non mi ricordo più che cosa sia va bene fa niente comunque ottimo 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 questo l'avevo comprato perché l'avevo visto in un video di my beauty passion Simo ciao ciao Simo se mi vedi lei è sempre una tentatrice sui prodotti corpo perché gli piacciono tantissimo e gli fa piacere anche a me e devo dire che è veramente ottimo ottimo ne ho comprati altri due uno è già in doccia mi piace tantissimo un'esfoliazione micro micro sottile che però fa davvero il suo dovere perché poi quando andate a massaggiarlo sulla pelle dovete stare anche attenti perché potrebbe diventare irritante è buonissimo l'unica accortezza è quella di risciacquare bene 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 il prodotto perché magari ne rimane qualche piccolo residuo e poi comunque dà veramente fastidio quindi dovete rientrare in doccia però è fantastico io l'ho trovato solo su motino ho visto al tigotà che sono presenti però le creme corpo adesso non ho guardato se ci sono anche gli scrub corti ho finito la mia meravigliosa ragazzi una delle creme più buone che io ho provato nel 2022 anche perché è solo dal 2022 che faccio skin care però vabbè la crema l'ho sempre messa la crema alla banana di hello good stuff di essence per me è meravigliosa a parte il profumo di banana delle caramelle alla banana che compravo all'oratorio quindi questo mi fa ritornare a quando facevo la barista all'oratorio buonissima ma soprattutto un tocco molto leggero ma comunque tonificante e soprattutto non andava a ungermi la pelle quindi io l'ho utilizzata sia la sera che alla mattina ma alla mattina come base trucco per me è perfetta adesso ne ho altre che sto provando ma sicuramente questo è un must have cioè fantastica buona 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 ve la consiglio perché il prezzo è piccolissimo e per me è davvero buonissima altro top 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 che purtroppo ho finito questa ve l'avevo fatta vedere all'inizio delle mie ricerche delle mist per il viso l'avevo trovata in sconto avevo subito comprato una scorta della Vanilla & Co spero che ci sia ancora perché questa per me è la miglior mist che ho utilizzato nel 2022 adesso appunto ho finito anche questa spero di ritrovarla non è sicuramente super economica come quelle che troviamo dal DM però questa c'è il suo perché a parte la vaporizzazione che dà nebbiolina proprio non vi accorgete neanche che la spruzzate poi ha questo profumo molto rilassante di rosa di oli essenziali buonissima veramente veramente questa ve la straconsiglio non consiglio anche se spendete qualcosina di più ma vi dà una sensazione di rilassamento di di comfort di benessere ottima 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 intanto mi tengo controllata finalmente finalmente ho finito l'acqua micellare bifasica illuminante alla vitamina C sono stata brava l'ho finita tutta facevo di quei passaggi che neanche speedy gonzales mi assomigliava perché erano velocissimi a me brucia davvero tantissimo spero che il tonico che da tanti anni che non uso più all'acqua di rose che ho in scorta non sia non sia uguale perché altrimenti lo devo regalare non mi è proprio piaciuta e non la ricomprerò poi abbiamo qua un po' di maschere un po' tante maschere vi faccio vedere quelle velocissime che ha usato Lucia in modo che non ci soffermiamo anche perché non vi so dire se le sono piaciute oppure no però allora questa è la maschera per capelli che abbiamo comprato da Action Lucia ci tiene moltissimo ai suoi capelli e fa bene quindi si spara maschere a go go anche questa poi sempre maschere e capelli questa all'avocado e ce n'era anche un'altra ma non la trovo più eccola qua e al mango sempre queste devo andare a fare un giretto da Action a vedere che novità ci sono anche se ci sono appena stata ma è molto pericoloso io invece ho finito questi peciocchi della Garnier Skin Active Hydra Bomb è inutile che ve lo dico io sarò anche devota a Garnier ma sono sono sempre buoni qualsiasi tipologia io provo è sempre buona e come ho fatto invece questa mascherina per per gli occhi al cocco acido dialuronico buonissima anche questa queste davvero per me sono proprio delle vere coccole buone 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 poi questa l'avevo regalata a Natale a Lucia sono quelle che ho comprato da Primark maschera viso poi invece ho fatto tutte queste eccole qua allora della linea Disney Princess ho fatto questa di Raperonzolo sono buonissime se le trovate sono veramente veramente buonissime a 0,99 ne vale la pena direi quasi al pari di Garnier o addirittura sullo stesso livello buone 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 hanno delle decorazioni le maschere in tessuto sono leggere sono imbevutissime di siero sono veramente fantastiche io le trovo da Action ma le ho viste forse anche su Notino non vorrei dire una stupidata e poi questa della cos'è Cenerentola questa no Cinderella sì Cenerentola sì Cenerentola Biancaneve e Raperonzolo eccole qua buonissime buone 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 poi questi li ha fatti Lucia io francamente non mi ricordo neanche dove gliele ho comprate quindi i patch occhi e la maschera viso ve li faccio vedere per conoscenza come anche questa che ha fatto Lucia col faccino da panda ma non vi so dire mentre mi ha detto che le è piaciuta tantissimo e si è trattenuta nel mangiarla questa maschera che avevamo comprato nel barattorino di carta se volete andare a rivederla vi lascio il video di Action dove abbiamo preso tutte queste meraviglie è un barattorino di carta un bicchierino di carta come quelli del caffè da asporto dove c'è praticamente il liquido per mescolare la polvere e ha il profumo di mirtillo e lei mi ha detto che le sembrava di avere lo yogurt al mirtillo sulla faccia era buonissimo e gli ha lasciato la pelle bellissima questo me l'ha detto poi io ho fatto questa maschera al pomodoro il pomodoro ha un'azione molto limitiva sulla pelle nel mese di febbraio c'è stato qualche giorno dove c'è stato molto freddo e la mia pelle ne ha risentito era molto secca nonostante sia misto grassa e anche molto irritata arrivavo alla sera che quando mi struccavo veramente mi dava proprio fastidio anche soltanto passare il detergente delicato sulla faccia e mi sono fatta questa maschera che è una bomba e vi dirò anche che secondo me mi hanno rubato l'idea i coreani perché quando noi eravamo giovani e snelle e andavamo ai campeggi non ci interessava ovviamente della protezione solare quindi ci mettevamo che ne so la birra oppure l'olio di cocco quello senza protezione e ci abbronzavamo penso che noi ragazze del 70 sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando e poi dopo 2-3 ore sotto il soleone a 2000 metri ovviamente eri una ragosta e quindi non avevamo delle creme dopo sole magiche cosa facevamo i nostri cuochi ci tagliavano dei pomodori a pezzetti e ce li applicavano sulle zone ustionate ed era veramente miracoloso fantastico veramente fantastico quindi secondo me hanno capito qual era la nostra idea e l'hanno messa in atto comunque a parte gli scherzi questa maschera è davvero molto molto buona e molto limitiva disarrossante ultima maschera mi pare questa che mi è piaciuta tantissimo avevo anche l'altra metà non so dove l'ho messa probabilmente l'ho buttata senza rendermi conto della Balea all'acido dialluronico ma questa maschera è rinfrescante cioè vi sembra di avere di avere una un'onda sulla faccia di acqua fresca che rimane e che vi rinfresca tantissimo e praticamente l'ho usata proprio negli stessi giorni in cui ho usato quella al pomodoro davvero era buona 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 in gel era in crema gel molto leggera ma buona con un effetto davvero rinfrescante pazzesco Balea ora veniamo a noi veniamo a noi allora ho finito questa essence in spray di revolution che mi è piaciuta tantissimo è vegana cruently free ha il profumo di mirtillo mamma mia buonissima buona 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 la utilizzavo alla mattina per darmi quella sferzata di energia che mi dava il coraggio per lanzarmi per andare poi in ufficio davvero buonissima il prezzo adesso non ricordo ma era ovviamente un low cost e l'avevo trovata solo su notino sono andata a rivedere al momento non è disponibile se dovessi ritrovarla sicuramente la comprerei perché mi è piaciuta tantissimo buona 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 poi ho finito questo contorno occhi di vc che avevo acquistato prima dell'estate l'ho utilizzato tantissimo d'estate poi siccome era comunque molto leggero l'ho lasciato l'ho lasciato un attimo perdere adesso lo volevo finire e quest'estate non mi ha fatto nessun tipo di effetto adesso mi dava un po' di pizzicorio però ce n'era veramente poco quindi l'ho finito però non so se è il prodotto che magari si è leggermente deteriorato o se è la mia pelle perché ultimamente la mia pelle è disastrata cioè mi brucia tantissimo alcuni giorni non riesco neanche a truccarmi se non mettere proprio un filo di correttore perché mi dà proprio fastidio mi brucia però sappiamo che tra i disturbi della menopausa c'è anche questo ho finito questo scrub viso cremoso della massaggiare i prodotti della geomar mi stanno piacendo davvero davvero tanto questo l'ho comprato al tibota poi 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 questa maschera viso era un regalo che avevano fatto a lucia dalla mia amica betta natale della bioteca italiana buonissimo tutto il set aveva la crema corpo la maschera viso e lo scrub corpo se non mi sbaglio e secondo me la bioteca italiana è un marchio da tenere in considerazione lo trovate io lo trovo al tibota i prezzi sono davvero molto sostenibili e i prodotti sono più che validi poi questo lasciamo per ultimo ho finito anche questo probiotic mineral 89 concentrato della Vichy lo utilizzavo alla sera buono i prodotti della Vichy sono prodotti secondo me molto validi adesso volevo appunto ricomprare il booster ma ne ho altri due che sto utilizzando quindi aspetto altrimenti le mie scorte ci siamo capiti comunque davvero molto molto buono io li avevo comprati tutti su una parafarmacia online in uno sconto sostanzioso poi ho finito questo detergente intimo con estratto di mandorla bio sempre della bioteca italiana fantastico è latte di mandorla un profumo di latte di mandorla naturale meraviglioso delicato cremoso buono 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 questo era in travel size perché faceva parte delle scorte estive per quando andiamo in vacanza non l'avevo utilizzato l'ho tirato fuori adesso e l'abbiamo finito comunque davvero molto molto buono poi ho finito questo olio balea olio nutriente corpo e viso io l'ho utilizzato solo sul corpo con olio di semi di canapa bio ed estratto di rose buonissimo io le formulazioni in olio come idratanti per il corpo sono quelle che preferisco perché si assorbono subito riesco ad avere proprio una sensazione di morbidezza di idratazione molto intensa mi piacciono tantissimo e questo non sentiva secondo me di rosa ma di agrumi di limone di bergamotto comunque era buonissimo e sicuramente lo ricomprerò quando ho finito sempre le mie interminabili scorte buono 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 poi 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 allora ho finito questo struccante occhi waterproof io non uso trucco waterproof come mi dico sempre mi piace tanto è una certezza di l'oreal la cosa schifosa è purtroppo il dosatore perché quando voi lo andate ad agitare e poi versate vi va roba da tutte le parti ecco l'oreal se mi stai ascoltando ovviamente come tanti di noi ti hanno già chiesto cambia il dosatore se ne spreca anche parecchio magari è proprio una trovata così e con e commerciale per venderne di più però è buono è buono è buono adesso sto utilizzando quello che ho acquistato da Lidl e mi piace tanto fa il suo lavoro ad un prezzo veramente molto molto economico ho finito ho finito questo fissante della Kiko in spray mi piace sempre tanto l'avevo comprato con gli sconti ne ho un altro in scorta sono quelli che preferisco preferisco perché mi danno l'impressione di fissare meglio e di inumidirmi meno la pelle buono se li trovo sempre in sconto quando ci sono gli sconti da Kiko io li compro sempre come mi è piaciuto tanto questo anche se era in spray ma acquoso non col gas di Elf buono 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 mi dava l'impressione veramente che il trucco durasse tutto il giorno con questo spray mi è piaciuto tantissimo anche questo l'avevo comprato su notino poi ho provato con il contagocce questo Abel Royale un siero riparatore per occhi della Guerlain a me è piaciuto tanto non oso andare a vedere cosa possa costare questo siero mi è piaciuto davvero tanto leggero ma allo stesso tempo quando l'ho applicato me lo sono fatta durare 4 giorni cioè proprio ne mettevo su un goccino buonissimo buono 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 ripeto non so cosa possa costare la Full Size questa mi era arrivata un campioncino in omaggio per me è ottimo mi dava proprio la sensazione di piallare completamente il contorno occhi l'ho messo sia di giorno che alla sera mi è piaciuto davvero tanto vedremo cosa costa la Full Size poi ho finito questo correttore della Kiko il colore lo 03 era leggermente scuretto perché l'avevo comprato in estate quando sono un po' più abbronzata ma devo dire che questa colorazione che ha un sottotono un po' giallino sul mio occhio vediamo se riusciamo riesco a farvela vedere sul mio occhio va bene perché io ho una pelle con un colore comunque un sottotono abbastanza giallo rosato e mi andava a nascondere le occhiaie quelle poche volte che le avevo comunque a uniformare bene il colore mi sono segnata appunto il colore perché una volta che ho smaltito tutti quelli che ho aperto che sono un po' chiari un po' scuri quindi li mescolo per cercare di finirli questo sicuramente lo ricompro mi è piaciuto penso sia uno dei correttori in linea permanente e poi sempre come trucchi ho finito cioè come trucchi sì ho finito questa No Sebum Mineral Powder della Innisfree che avevo comprato su Stylvana mi è piaciuta tantissimo perché è una cipria opacizzante molto molto leggera trasparente impalpabile buona ecco non ho ben capito come si facesse usare quindi io versavo in un tappo di alluminio in un abbasamento di alluminio poi col pennellozzo me la davo sulla pelle comunque mi è piaciuta tanto adesso ho in uso quella nuova di Kiko che avevo visto della nuova collezione ma ero stata brava a non comprarla poi giustamente Elisabetta mi ha detto ma no Eli provala assolutamente almeno la cipria comprala e io l'ho comprata e devo dire che è fantastica veramente veramente bellissima farà poi parte dei preferiti del mese di marzo perché è davvero stupenda e sto usando anche quella classica in linea permanente la famosissima cipria a gesso di Kiko mi piacciono comunque tutte e due hanno due secondo me usi diversi e caratteristiche diverse ma sono buone entrambe io le uso così ho finito la mia buonissima cipria opacizzante della Clinique che erano anni dico finita perché ho provato a togliere il rimasuglio ma non riesco neanche a tritarlo e quindi penso di averla da almeno sette anni ha fatto il suo lavoro e la lascio andare con molto dispiacere perché io così non l'ho più trovata probabilmente avrà cambiato pack ovviamente e formulazione però è stata una cipria molto valida per chi ha la pelle mista grassa come la mia e vuole opacizzare leggermente colorale mi è piaciuta tantissimo questa sto guardando anche che colore era B46 ma sono andata a cercarla mi pare non ci sia più e infine ho finito due profumini questo di strega del castello gemma di sale buonissimo me ne era rimasto un goccio e a malincuore l'ho consumato è un profumo di mare del nord un oceano freddo il profumo di sale della sabbia delle dune di sabbia dove c'è sempre molto vento un profumo meraviglioso mi ricorda tanto il rem non è identico non è un dupe ma come note mi ricorda molto il rem buonissimo veramente buono 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 questi profumi della strega del castello a me piacciono tanto mi durano tanto sono molto particolari con anche dei nomi molto evocativi mi piacciono davvero tanto e poi ho finito perché sto finendo tutti i profumi perché almeno se ne finisco tra 4 posso comprarne ancora a parte che ho delle scorte tipo per 10 anni però così almeno li sto consumando tutti questo che avevo comprato sotto Natale al Tigotà perché se non mi sbaglio questa è una marca che ho visto soltanto dal Tigotà metafora questo è elegante perché stavo cercando un profumo alla vaniglia ma non dolce non gourmand e la commessa del Tigotà mi ha consigliato questo era scontato forse 11-12 euro non ricordo mi è piaciuto non ho trovato in rete nessun tipo di informazione su questo brand se non che è rivenduto da Tigotà e sulle note che compongono questa fragranza io non sono un naso e quindi non riesco a capire ci sento la vaniglia una vaniglia vediamo se esce ancora qualcosa una vaniglia molto secca mi ricorda un profumo che ho già sentito probabilmente il dupe o l'equivalente di qualche profumo c'è questa vaniglia molto secca c'è dell'ambra questa la sento e poi qualcosa di fiorito un fiorito molto persistente però si sente anche la vaniglia ma non una vaniglia gourmand una vaniglia secca ebbene io ho finito nel mio cestone non c'è più nulla spero che il video sia venuto perché davvero se lo devo rifare per la quarta volta vado e compro una videocamera nuova perché poi non mi ricordo neanche più e non ho più voglia perché mi scappa la pazienza vi saluto vi auguro un buon weekend il mio sarà abbastanza intenso domani avrò il ritiro con i miei ragazzini e bambini di catechismo il ritiro quaresimale qui ci sono delle giornate veramente strepitose belle e calte ma oggi c'è un vento fortissimo vi auguro davvero di trascorrere un buon fine settimana e di ricominciare con entusiasmo e voglia di fare la nuova settimana lavorativa ricordatevi sempre di godere ogni giorno delle piccole cose perché sono le piccole cose quotidiane che fanno la felicità io vi abbraccio vi saluto e vi mando un grosso bacione ciao a presto a presto